La mia idea è partita nel 2009, quando sono tornato dai miei viaggi all'estero, in quel caso era nel sud-est asiatico, e avevo questa intenzione di ripopolare un borgo abbandonato, di recuperare i terreni e via dicendo, in maniera sostenibile, magari in gruppo con più persone. E sulla mia strada ho incontrato Glori, è partito da una borgata sopra Glori, che si chiama Glori Superiore, che mi ha rapito, mi ha rapito il cuore. E niente, da lì ho cominciato a cercare una casa in affitto a Glori, ho avuto questa visione che sarebbe stato tutto ripopolato e recuperato, e ho cominciato a cercare di conoscere la gente del luogo per capire le proprietà delle terre, come funzionavano, le case, chi erano i proprietari. Così ho cominciato ad arrivare prima una coppia di giovani, abbiamo cominciato a fare qualcosa insieme, tipo aiutare la proloco del posto, magari nelle feste delle processioni, piuttosto che via. Abbiamo cominciato a socializzare con la gente del paese, così che ha cominciato anche la gente del paese a fidarsi di noi e a vedere che non facevamo nulla di strano, ma volevamo solo riabitare un posto e farlo in maniera educata e ecologica, mettiamola così. Glori si trova in provincia di Imperia, nella valle argentina, in Liguria, a 500 metri sul livello del mare e abbiamo la vista mare, siamo l'unico paese della valle argentina dal quale si vede il mare. Io sono venuto a vivere a Glori nel 2016, circa un anno dopo che Luca si era trasferito qua in affitto a Glori, sono venuto qua inizialmente con la scusa di comprare un rudere, nel senso Luca nel suo iniziale processo per il primo anno di conoscere i proprietari, inserirsi socialmente nel borgo, aveva conosciuto anche le proprietà dei ruderi che erano in vendita e io e la mia famiglia eravamo in cerca proprio di un luogo da poter ristrutturare e creare una piccola fattoria dell'autosufficienza. Per cui abbiamo iniziato a frequentare Glori per tutto il 2015-2016, inizialmente come ospiti, come visitatori. È stato solo poi dal 2016 in poi, dopo che noi abbiamo comprato una proprietà, che abbiamo scelto di investire anche a livello progettuale in quello che inizialmente era un sogno esclusivamente di Luca e che poi è appartenuto un pochino a tutti. È nato così Glory the Place to be nel 2016, direi, inizialmente come scherzo, come gioco. Siamo due amici perché noi ci conosciamo già da viaggi, da 5-6 anni, già dal 2009-2010 e nasce come una pagina Facebook inizialmente, semplicemente per divulgare quelle piccole attività che iniziavamo a fare con l'associazione di sviluppo turistico, la Proloco di Glori, inizialmente come un mercatino di scambio ed è gratuito, che abbiamo iniziato a pubblicizzare sul web. Da lì la pagina Facebook e i social network sono diventati un pochino il nostro ponte verso l'esterno. C'è stata una lunga fase embrionale, definirei, che è iniziata e durata fino al 2017-2018, in cui oltre che a pubblicare i fatti nostri, diciamo, e tutte le attività che individualmente sviluppavamo, come l'azienda agricola Cloris, che è nata poi di Luca, e l'azienda agricola Biodiversamente, che è quella di Federico Guadaluppi, un altro ragazzo che si è aggregato al progetto. Diciamo per tutto il 2017-2018 è diventato un'attività ancora non proprio progettuale, nel senso era più legato a delle fantasi, a dei sogni e a una voglia di divertirsi e di lasciarsi liberi a una spontaneità, che è stata poi un po' il segreto ed è tuttora, cerchiamo di preservare il più possibile all'interno dell'associazione. E poi lentamente hanno capito che poteva essere una dimensione sociale o comunque una possibilità anche per loro e siamo riusciti attraverso poi il lavoro fatto dalle persone che già ci vivevano a trovare case in affitto anche per nuove persone. Non credo che quest'ultimo anno il successo sia il risultato magari di qualche attività speciale o comunque di qualcosa di magico. Credo sia più proprio il frutto di tantissimi lavori relazionali e di rete che abbiamo fatto nei primi quattro anni. Dal 2018, quando è stato presentato, anzi direi è stata già 2019, quando la pagina ha preso seguito e l'aspetto diciamo fantasioso e spontaneo ha preso un aspetto un po' più progettuale, diventando una PS, di conseguenza un'associazione di promozione sociale. Abbiamo con le nuove persone che arrivavano sviluppato un cortometraggio dal titolo Gli Orizzonti, che racconta un po' la storia di quella che oramai è la glory the place to be, è la glory del passato, visto che poi dalla pubblicazione del video che era l'estate del 2019, contavamo nove nuovi abitanti, forse dieci, adesso non ricordo esattamente, e a oggi siamo 22 nuovi abitanti di cui sei bambini, ci sono persone che vengono dall'estero, persone che vengono da tutte le parti d'Italia, legate da una voglia di prendersi cura di un luogo, è importante per noi il concetto cardine di glory the place to be, è il fatto che comunque al centro del tutto c'è il place che è glory, è il luogo in cui abitiamo e ognuno sviluppa a livello autonomo, a livello di famiglia i propri interessi e le proprie passioni e a oggi siamo arrivati così. Dal 2019 è iniziata quella che abbiamo definito un po' la fase 2.0, che poi è un po' figlia del lavoro fatto nei primi quattro anni, nel senso che è stata un po' una stagione di raccolta, tra il 2019 e il 2020 ci sono 12 nuove persone che abitano in paese e la maggior parte di loro, a parte l'ultima famiglia che è arrivata, sono comunque persone conosciute negli anni precedenti che inizialmente si sono avvicinate a glory, al nostro progetto come amici. Glory the place to be è un nome che nasce in maniera abbastanza casuale. Noi veniamo da viaggi esteri, io e Luca ci siamo conosciuti in Australia e l'influenza anglosassone del nostro peregrinare internazionale. Il termine the place to be è sicuramente un modo un po' accattivante, un po' giocoso, un po' scherzoso di considerare il luogo che sei un catalizzatore, nel senso è un luogo in cui proprio se passi non puoi fare a meno di fermarti ed era quello che Luca aveva visto un po' in glory, nel senso quando mi raccontava glory e quando mi diceva no devi assolutamente comprare qui un rudere te lo trovo io e diceva vedessi c'è i boschi, c'è gli olivi, c'è i castagni, c'è la vigna, vedessi che terrazze e i luoghi effettivamente sono speciali, sono speciali sicuramente come tanti altri posti della Liguria e altri posti d'Italia e però diciamoci è un bel luogo in cui essere. Allora io quando sono arrivato ero da solo e avevo questa idea di questo progetto, chiamiamolo visione dai mettiamola così e niente quindi ero convinto di avere visto o comunque di desiderare fortemente che il paese si ripopolasse, recuperare le terre, le terre abbandonate, queste terrazze fantastiche, questa architettura che anche nelle cose più semplici da ponti a scale a sbalzo, a nicchie, tutto murato a secco, senza cemento, sono opere d'arte che non potevo lasciare lì abbandonate, allora questo entusiasmo mi aveva preso e cercavo di fare qualsiasi cosa, parlavo con la gente, cercavo di convincere che l'idea era giusta, era buona, anche gli autoctoni che magari all'inizio erano più resistenti, poi hanno cominciato a fidarsi, a vedere che andava bene e da lì è arrivata un'altra famigliola con il primo bimbo, ora è nato a glori dopo non so dire quanti anni, poi loro si sono spostati in un'altra frazione qua vicino, poi da lì hanno cominciato ad arrivare altre persone, un'altra coppia, poi sono arrivati Matteo ed Elisa con Miro, poi adesso c'è anche fiume e da lì un po' per scherzo appunto, un po' per gioco, un po' per vedere se c'era davvero un interesse e abbiamo provato ad apparire diciamo al di fuori di qua, venivo chiamato il matto, poi da loro il pioniere, poi tanti nomi mi hanno dato ma alla fine in qualche modo lo sapevo, dall'altra non ero così sicuro e quindi me la sono goduta tanto, diciamo che come ha aperto il bar me la sono goduta tanto, diciamo tra i frutti del progetto di ripopolamento di glori è nato un bar ristorante che rilevava un'attività agrituristica legata a un'azienda agricola di persone proprio autoctone cresciute a glori che era aperta solamente il sabato la domenica e di conseguenza per il paese non era chiaramente un servizio e non era un servizio sufficiente per poter essere un punto di aggregazione o comunque di scambio per le persone che vivono tutto l'anno, era un'attività più legata al turismo. Nel momento in cui le persone, i proprietari dell'agriturismo che sono la famiglia Ausenda ha deciso di cambiare vita o comunque di chiudere l'attività e avrebbero avuto piacere ad affittare a nuove persone proprio attraverso la pagina che negli anni, la pagina Facebook che negli anni aveva sviluppato un certo seguito abbiamo pensato che per noi poteva essere un'ottima opportunità per attirare nuove energie, nuove persone da fuori perché il bar ristorante veniva affittato anche con l'appartamento adiacente e quindi era un'opportunità per vivere e per lavorare aperta a chiunque perché comunque offrendo anche una possibilità abitativa offriva una possibilità a persone che potevano arrivare da qualunque parte del mondo. Abbiamo scelto così di utilizzare la pagina Facebook come tentativo perché questo succedeva nel 2019, eravamo ancora in fase molto sperimentale, ancora non conoscevamo i segreti dei social network. Sono arrivati Sara e Vincenzo che sono stati, nonostante sia passato solo poco più di un anno, sono stati tra i 10, penso 10, 11esima nuova persona arrivati in paese, lui è originario di Pozzuoli ma ha vissuto tutta la vita a Milano e lei è originaria di Milano e hanno scelto, visto che lo sognavano da anni, di lanciarsi in questa attività e hanno aperto l'Oste e la Strega che è un bar trattoria, che è il primo bar trattoria dopo 14 o 16 anni che non ce n'era uno a glori. Purtroppo con l'emergenza sanitaria e col Covid i loro piani e i loro progetti sono stati inizialmente bloccati e rallentati e questo comunque non ha fermato i loro sogni che sono andati avanti, sono riusciti ad inaugurare finito il periodo di lockdown, credo a inizio giugno, fine maggio del 2020, sono riusciti ad aprire e quest'estate hanno avuto un grande successo, hanno avuto un grande successo come attività a dimostrazione che l'offerta montana o comunque le possibilità turistiche ci sono anche di lavorare in luoghi come Glory, ma soprattutto è stato il trampolino di lancio per la socialità di paese, è stato il vero punto catalizzatore per legare persone come noi che sono arrivate e che hanno investito gli ultimi anni quasi esclusivamente a livello agricolo, sociale, legato al progetto Glory the place to be, ma anche con le persone autoctone di tutte le età, con i proprietari delle seconde case stranieri e non stranieri, anche originari di Glory, è diventato il luogo in cui amalgamare questo calderone sociale che prima era affidato un po' a una socialità individuale, privata. Io quando sono arrivato mi sono così tanto innamorato delle terre che volevo capire di chi erano, di chi non erano e mi è subito stata data una terra che era completamente abbandonata, erano tre terrazze che noi chiamiamo fasce ed era completamente abbandonata nei rovi, Massimo il proprietario di quello che era l'agriturismo mi ha subito dato una mano, quindi questo scambio è iniziato subito e da lì poi la terra vicino, poi quella ancora vicino e ho cominciato a recuperare le terre chiedendo di chi era la terra, allora cominciando a parlare con le persone, in questo senso qua. Gli anziani mi hanno insegnato a coltivare il fagiolo tipico di qua che è la moneghetta con un sistema di irrigazione antico, perché qua ci sono questi chiamati pozzi che sono queste vasche e si bagna ancora con il Beo che sarebbe il canale e si bagna per allagamento che è una cosa molto bella, scenica e romantica da vedere e queste sono conoscenze che mi hanno passato loro. Dopodiché il mio sogno di recuperare le terre è continuato, ho fondato un'azienda agricola per recuperare proprio i terreni e da lì la ricerca dei proprietari Catastale sia un po' infittita e adesso abbiamo una mappatura dei terreni, diciamo che non ci sono proprietari, pochissimi sono i proprietari dispersi ed è quello anche che aiutiamo, diamo supporto a chi arriva e vuole coltivarsi un po' di terra piuttosto che come due ragazzi che sono arrivati ultimamente per fare un'altra attività di erbe aromatiche per esempio. Io ho Glori Superiore che da lì è partita la mia idea diciamo e ho cominciato a coltivare ripulito 6.000 metri per mettere la lavanda e Federico prima di me che eravamo arrivati insieme la prima volta che abbiamo scoperto se così si può dire Glori, lui ha già messo l'anno scorso 6.000 metri di lavanda, quindi Glori Superiore che fino a 5 anni fa era abbandonata a breve, fin dalla provinciale si vedrà più di un ettaro di lavanda, si vede bene il cambiamento della lavanda mi piacerebbe sia poterla vendere a mazzi sia in oli essenziali ma soprattutto mi piacerebbe poter far venire le persone a provare l'esperienza della raccolta, vivere il territorio, conoscere il territorio che è anche zeppo di storia oltre che di bellezza. Mi piacerebbe far proprio conoscere questi territori, far vedere che è possibile poter ripulire e recuperare opere d'arte più che terre perché per me è quello che sono e andare a riscoprire quello che gli anziani, gli antichi avevano costruito che è un lavoro enorme. Io avevo fatto esperienza agricola sia in Asia dove stavo in cambio lavoro, lavoravo in delle aziende, in dei progetti e sia in Toscana dove eravamo nell'ecovillaggio Corricelli e abbiamo fatto esperienza anche di rifacimento muri a secco, piuttosto che anche di progettazione naturale e questo è applicabile, assolutamente applicabile anche qua. Diciamo che io ho cominciato viaggiando, finché vivevo qua in provincia di Imperia non avevo molti stimoli, forse non li trovavo, comunque partendo dal viaggio dell'Australia da lì ho cominciato a capire che c'era un mondo diverso anche. Quando sono andato in Australia avevo 21 anni, è partito un po' per gioco anche questa cosa qua ed è lì che ho conosciuto Matteo, sono andato sì, per fare un viaggio, per cambiare aria e non sapevo nulla da lì, poi ho capito l'esistenza della permacultura e il mondo delle, una rete, una rete diciamo alternativa. Glory chiaramente non è la mia prima esperienza di vita, nel senso che mi sono affacciato a questo mondo agricolo, questo mondo rurale, montano anni prima. Dopo gli studi, la mia formazione è di marketing fondamentalmente, scienze della comunicazione e anch'io a 21 anni, quasi 21 anni, 20-21 anni ho scelto di vedere se il giardino del vicino era veramente più verde, per cui sono andato all'estero come tantissimi giovani e sono finito in Australia, in Australia dopo anni di viaggi, di lavori, di esperienze normali, nel senso ho lavorato in un supermercato, ho scoperto la permacultura che è stato per me il ponte, la scusa per affacciarmi a un altro modo di vivere. Ho avuto il privilegio di poterla studiare e poi sperimentare attraverso la rete del woofing e del volontariato in Tasmania, che è un po' la patria da cui è nata e una volta rientrato in Italia, diciamo il governo australiano mi ha caldamente invitato a rientro in Europa e volevo, ho fatto volontariato in un'azienda agricola in cui si sviluppavano concetti di permacultura, la proprietaria è un'insegnante di permacultura e una volta tornato in Italia non potevo abbandonare questi interessi che avevo scoperto e che mi avevano un po' sconvolto il paradigma di pensiero, diciamo. Tornato in Italia l'unica realtà longeva e credibile che avevo nel territorio era Torri Superiore, l'ecovillaggio di Torri Superiore, in cui Massimo Candela mi ha consigliato dei contatti e tra questi contatti c'è Marco Naldini che è un insegnante di permacultura che ai tempi viveva all'ecovillaggio basilico, quello che attualmente è la PS Corricelli, per cui ho recuperato Luca che in quegli anni era tornato a vivere in Italia anche lui e siamo andati a vivere due anni in questo ecovillaggio e per me è stato un po' uno spartiacque perché ho scoperto la pietra, nel senso in questo ecovillaggio abbiamo ristrutturato un casolare, io venivo da esperienza zero, non avevo conoscenze, tanta fantasia, tanti sogni e tanta voglia e curiosità sicuramente, ma esperienza agricola, manuale, artigianale, nulla e non sapevo neanche che la calcio e il cemento si impastano con la sabbia. Iniziato con Marco e con l'ecovillaggio e con Luca abbiamo ristrutturato una casa e Marco ci ha un po' iniziato all'edilizia secco. Vivo a Glori dal 2016 ma vivo in Liguria in queste valli alpine o comunque nelle Alpi marittime dal 2013. In questi 7-8 anni ho avuto la fortuna di conoscere tanti anziani del luogo e poter lavorare con aziende agricole gestite da persone con molta esperienza e lavorare con artigiani edili per cui poi negli anni sono riuscito a sviluppare oltre che una conoscenza sull'edilizia secco per le terrazze, per le facce, anche tutto ciò che concerne anche i tetti, scale, piazzali. Posso dire che vivo di quello, nel senso è il modo di vivere. Io ho il privilegio di poter lavorare nel raggio di 10 km da casa e un buon 70-80% dei clienti che ho e dei lavori che sviluppo sono raggiungibili a piedi e questo sicuramente è stato il frutto di lavori di anni. Il lavoro che faccio è un lavoro faticoso ed è un lavoro tecnico, ci vogliono anni a impararlo, non ho una grande concorrenza, questo è sicuramente vero perché comunque persone che amano e che hanno la voglia di fare 3-4 giorni a settimana, di spostare pietre, non siamo in tanti, però ho il privilegio comunque di poter vivere proprio nel nostro territorio. Gloria ha tre frazioni che sono Gloria Superiore, Rogerio e Fontanili che sono solo un paio di chilometri sopra, io vivo in una di queste e ho il privilegio di poter lavorare proprio sul nostro territorio che ha anche una ricchezza anche a livello umano e emotivo perché so che sono lavori che rimangono nel luogo in cui abito e nel luogo in cui sto crescendo i miei figli. Io ho 34 anni, mi sono trasferito a Gloria che ne avevo 30, ho due figli di cui uno ha quasi 4 anni e l'altro 7 mesi. Sì, con mia moglie erano anni che avevamo questo sogno, noi ci siamo conosciuti 8, oramai 9 anni fa, lei ha sempre avuto interessi di questo tipo, nel senso ci siamo incontrati che entrambi eravamo già in un percorso personale che ci voleva portare un giorno magari ad avere una famiglia, avere dei bambini e crescerli in un modo sano, in un modo più naturale o comunque in un ambiente che almeno lo fosse e insieme abbiamo coltivato questo interesse che diciamo da un punto di vista era quello di creare una piccola azienda, una piccola casa, un piccolo podere dell'autosufficienza e magari anche in ambito educativo si sviluppa anche diciamo con interessi educativi di più ampio spettro anche per i nostri figli. Ora abitiamo nella frazione sopra Glory che paradossalmente è in un altro comune, nel comune di Montalto Carpaso e non nel comune di Molini di Triora e abbiamo una piccola casa in pietra e alimentata con pannelli fotovoltaici a isola, cioè siamo completamente off grid nel senso che ci scaldiamo l'acqua sanitaria e il riscaldamento funziona legna per cui negli anni il nostro sogno è andato avanti e ci auspichiamo che possa svilupparsi ulteriormente. Il futuro di Glory sarebbe bello che non solo Glory si faccia investire da questo movimento del ripopolamento, rivalorizzare i borghi, i paesi e riqualificare i terreni, recuperare e quant'altro anche perché soprattutto nella nostra valle in questo caso abbandonare le terre vuol dire anche disastri ecologici. Il nostro intento sarebbe quello di riuscire ad arrivare anche in altri paesi, anche in altri borghi, diciamo portare l'idea anche negli altri paesi che potrebbero in questo modo risorgere e vivere di vita propria, mettiamola così. Anche il premio Voler Bene all'Italia che abbiamo vinto nel periodo del lockdown, diciamo ci è stato consegnato a fine maggio, inizio giugno del 2020 è anche quello risultato di un lavoro di relazione lunghissimo che abbiamo fatto negli anni, che ha fatto soprattutto Luca attraverso legambiente Circolo Valle Argentina e di cui è di parte integrante anche nel direttivo, è stato comunque il frutto di un lavoro fatto negli anni. Ci è stato dato nel 2019 un premio dal nome Adler, che è un premio dato da un'associazione per progetti virtuosi a livello ecologico più a livello provinciale e da lì poi il nostro impegno che abbiamo portato avanti negli anni nelle relazioni non solo col territorio di Glori, non solo col territorio comunale di Molini di Triora o di Montalto Carpasio, nemmeno col lavoro di Valle ma anche con un lavoro sociale sviluppato in senso lato. Abbiamo cercato di lasciare le porte aperte a tutte le persone, a tutte le associazioni, a tutti gli enti che potevano essere interessati ad aiutarci, a sviluppare collaborazioni. Legambiente è stata una di quelle che ha creduto di più fino ad oggi nel progetto di Glori e a maggio, diciamo a fine maggio abbiamo vinto questo premio, che è un premio che danno tutti gli anni, che si chiama Voler Bene all'Italia, è la festa che fanno tutti gli anni Legambiente Italia per la festa dei piccoli borghi montani e questo ha dato al progetto di Glori un'ulteriore rilevanza mediatica nazionale. Da lì chiaramente il processo di sviluppo del paese e del ripopolamento del progetto ha preso un'ulteriore accelerazione. Io quando sono arrivato ero da solo, non è stata tutta rosa e fiori, nel senso che ero un giovane da solo che arrivava in un paese e parlava di cose strane, tipo ripopolare e recuperare le terre, quindi l'impressione che ho dato dall'inizio non è stata subito ottima, ma anzi hanno dovuto la gente del posto accertarsi che non so con quale metodo che fossi una brava persona e non volevo fare cose strane. Trovare una casa è stato difficile, però poi diciamo che quella scorza dura della popolazione autoctona poi si è sciolta e ha cominciato ad aiutare, ma all'inizio è stata dura, però l'idea era chiara e quindi non mi sono fermato, non ce l'ho fatta. In questi quattro anni che siamo a Glory ci sono state difficoltà, ci sono stati momenti di crisi a livello familiare, diciamo nel nostro caso, crescere i bambini o comunque vivere in montagna è bello, è arricchente, ci sono un sacco di cose per cui ha valore scegliere questa scelta di vita. Allo stesso tempo ci sono le difficoltà, le scuole sono lontane, i servizi sono pochi e la comprensione verso le diversità è poca o comunque è lento il processo diciamo di accettazione e di comprensione. Noi personalmente come famiglia abbiamo avuto momenti di difficoltà, momenti in cui sembrava che il nostro sogno fosse un'illusione, ci sono stati momenti in cui abbiamo anche valutato la possibilità di andarcene e di andare verso terreni più comodi e in realtà magari più bucoliche. Credo che dietro l'aspetto bucolico del vivere in campagna e quello che è poi il più grande limite, la più grande difficoltà di Glori che è la sua sprezza, la sua sprezza di territorio, la sprezza e la durezza anche della popolazione autoctona e credo sia anche nel momento in cui l'abbiamo accettata la sua più grande risorsa, nel senso che il nostro progetto è crudelmente vero. Il nostro progetto è così, noi non siamo un ecovillaggio, noi non siamo una comunità, noi siamo come è stato definito da un ragazzo veneziano che è passato da poco una cosa non cosa e come la realtà in qualunque suo aspetto a volte è spinosa, a volte ci sono gli attriti, da quando siamo tanti in paese, tanti nuovi abbiamo chiaramente punti di vista differenti, abbiamo aspettative differenti su dove vorremmo andare. Ognuno vuole, ha il desiderio di portare un pezzo di sé all'interno di questo progetto, all'interno di questo sogno collettivo che però allo stesso tempo è anche individuale e quindi questo inverno, questa primavera abbiamo dovuto confrontarci anche con parecchi attritti interni. L'essere in di più è una grande forza ma anche i suoi aspetti diplomatici, mediatici e di comprensione reciproca e questo a volte passa per un progetto reale, per un progetto umano e di conseguenza anche con le sue difficoltà, ai suoi litigi e le sue incomprensioni. Abbiamo qui a Glory dei momenti di confronto che sono legati al discorso associativo, quindi per quanto riguarda Glory The Place To Be, associazione di promozione sociale, abbiamo un direttivo con cui attraverso un gruppo WhatsApp comunichiamo, decidiamo delle assemblee per tutti i soci, tra cui ci sono anche persone che non abitano residenzialmente a Glory ma hanno interesse per dire a un'azienda agricola o comunque hanno delle proprietà terriere o hanno i parenti, magari anziani che vivono in paese e di conseguenza hanno interesse a uno sviluppo del paese in senso lato. Di conseguenza a livello associativo sono previsti dei momenti di assemblea con tutti i soci e dei momenti in cui come direttivo ci riuniamo per dare delle linee guida, per sviluppare dei progetti riguardo alla sentieristica, riguardo agli eventi, all'autofinanziamento dell'associazione stessa. Per quanto riguarda invece l'aggregazione umana e il progetto più insensolato, abbiamo il privilegio rispetto a realtà come possono essere le comuni, gli ecovillaggi, che non facciamo riunioni, non abbiamo cerchi, non abbiamo un rituale fisso condivisivo e di conseguenza non utilizziamo strumenti né tecniche perché vogliamo proprio che la linea guida sia la spontaneità, cioè noi vogliamo che ognuno sia libero di essere se stesso, libero di essere autonomo e se ci riuniamo è perché spontaneamente abbiamo voglia e il piacere di essere insieme. Quindi spesso i momenti condivisivi sono legati più a momenti ludici di confronto come possono essere cene o aperitivi adesso al bar o giornate di lavoro in cui magari andiamo a valorizzare certe zone del paese lavorando tutti insieme collettivamente. L'esempio di attività che sviluppiamo collettivamente è la pulizia dei sentieri e della sentieristica e la rivalorizzazione di alcuni sentieri che oramai sono persi nella vegetazione selvatica e questo è un ottimo esempio di come l'interesse individuale di ogni singola famiglia, di ogni singolo individuo che abita a glori, che ha a cuore il luogo in cui vive, perché penso sia logico voler vivere in un luogo che sia curato, converge diciamo in un'azione collettiva lavorativa sviluppata in questo caso dall'associazione che può fare da interfaccia giuridica a livello di permessi, a livello di organizzazione e di assicurazione per chi lavora o chi sviluppa l'attività. Da quest'anno poi per me è motivo di grande soddisfazione perché siamo riusciti ad unire più proprietà di olive, di alberi d'olive coltivate e abbandonate e che abbiamo cominciato a fare in gruppo, 4-5 di noi più l'oste e la strega, ognuno con la sua forma di scambio proprio perché quello che si dice sempre è che per tornare alla terra non bisogna essere tutti agricoltori, per esempio se non avessimo un barco a glori non potremmo fare il recupero delle terre. L'attività dell'oliveto comunitario è quella di ripulire le terre per farle tornare produttive, gli alberi d'oliva, per poi creare un prodotto che sono le olive, l'olio, l'osteria a scambio, la giornata di Vincenzo noi siamo a pulire e lui cucina da mangiare, quindi è uno scambio non agricolo. Per me l'Italia che cambia è una presa di coscienza, voler vivere meglio, cambiare completamente quello che ci fa stare male, coltivare i nostri sogni e vivere con serenità, questo per me è l'Italia che cambia. Per me l'Italia che cambia è lasciare la porta verso il futuro aperta, lasciare la porta aperta alle possibilità e a quello che effettivamente le nostre capacità, i nostri territori, i nostri desideri ci possono offrire, senza lasciarsi influenzare dai nostri retaggi culturali o da un passato che sembra così lungo, così pesante, così costante.